Noi partecipiamo già da anni a questa iniziativa perché siamo convinti che la divulgazione delle informazioni e delle nozioni che forniamo sia estremamente importante sia ai nostri progettisti sia anche alle utenze. Perché è solo attraverso un approfondimento delle varie tematiche anche riguardo alle nuove indicazioni del mercato che si può crescere tutti quanti soprattutto come professionisti, come progettisti e come direttore dei lavori. I temi di quest'anno che riguardano gli interventi sui fabbricati esistenti e in particolare su quelli anche tutelati è un tema di estremi interessi perché esalta o dovrebbe esaltare la nostra fantasia di progettisti non riducendoci a meri applicatori di norme in quanto è la ricerca dell'obiettivo l'elemento più qualificante che ci distingue e ci qualifica come ingegneri sul territorio. Quindi io direi che questo messaggio deve essere un messaggio stimolante per tutti per cercare di ottenere alla fine un tessuto edilizio più vicino alle esigenze dei tempi che viviamo.